La protesta degli agricoltori torna a Pesaro nel weekend in tanti sono scesi in piazza del popolo per una manifestazione assolutamente pacifica alla quale ha partecipato anche Francesca Frenquellucci, l'assessore del comune di Pesaro nella mattinata di sabato ha raggiunto la piazza a bordo di un trattore. Ho voluto partecipare con loro anche perché sono persone che lavorano nel sacrificio ed è giusto esserli vicino anche come amministrazione comunale quindi ho pensato e ho ritenuto importante essere qua oggi insieme a loro e fare la manifestazione e li ho accompagnati durante il tragitto e dobbiamo essere anche noi tutti uniti e solidali perché comunque parliamo di materia prima e la materia prima poi dopo si ripercuote in tutto lo sviluppo economico. I manifestanti sono partiti con il corteo dalla zona delle cinque torri di Pesaro, quattro trattori sono stati simbolicamente ammessi in piazza del popolo, un luogo simbolo della città che quest'anno è capitale italiana della cultura. Sì abbiamo scelto di raggiungere piazza del popolo a piedi e oltre a essere la piazza più importante del capoluogo di provincia è anche un luogo simbolo quest'anno perché è la principale piazza della città della capitale della cultura. Un volantino distribuito dagli agricoltori e intitolato Orgoglio Italiano spiega le motivazioni della protesta, le difficoltà sono tante dalla concorrenza sleale dei paesi esteri ai costi elevati del carburante, pesa anche l'eccessiva burocrazia e la poca valorizzazione dei prodotti del territorio, mancano le risposte e per questo motivo nei giorni scorsi nel Pesarese è nato un nuovo comitato provinciale degli agricoltori. Ieri abbiamo fatto un'assemblea al presidio molto importante con vari gruppi del centro e nord Italia con la Romagna quindi stiamo lavorando per portare una voce unica nei tavoli che contano perché secondo noi ci sembra opportuno che chi prende le decisioni deve essere un agricoltore nei vari settori allevamento, cereaicolo, frutta e verdura, fienagione che sa le problematiche del settore quindi interloquire con le persone che possono e devono decidere per il futuro della nostra agricoltura. La protesta degli agricoltori non si ferma, nuovi presidi sono in programma nei prossimi giorni a Talacchio di Vallefoglia. Dunque la protesta continua, Fano, Urbino, Senigallia? Sì, sì, continua, continua perché non abbiamo avuto nessuna risposta da parte delle istituzioni e finché non ci saranno risposte continueremo ad oltranzi.